Com'è nata l'alangella? C'è un chiste di Don Giacchino che facevano i dispetti a Chieva in acqua alla fungarella. Se per esempio Caccoduno non ci faceva il sorriso, oppure in questi prepotenti del luogo ci rompevano la lagella a Chieva in acqua. Da questo racconto io ho estrapolato le parole che poi è diventata famosa, è diventata anche un materiale didattico e questo mi fa piacere perché spesso la sento cantata nelle scuole. Io ho detto che sul Trattur la pubblico a volte c'erano i testi sull'enzovole. E quindi nelle molte del vulcato... ...